Dall'inizio di quest'anno gli investitori nonostante la diversificazione degli asset all'interno del loro portafoglio non hanno avuto molto scampo. In un'ottica futura ci aspettiamo che si ripresenti la correlazione inversa tra azioni e obbligazioni. In altre parole ci attendiamo che le obbligazioni tornino ad isolare i portafogli dalla volatilità dei mercati azionari. Appoggiandosi a questa convinzione JP Morgan ha voluto esaminare tre fattori principali che influenzano l'economia attuale riportando quelli che sono i diversi metodi di approccio per rimanere investiti e rafforzare il proprio portafoglio. Andiamo a guardarli insieme. I punti fondamentali che vengono evidenziati sono i seguenti. Come primo punto c'è quello di affidarsi nuovamente all'obbligazionario quale elemento di stabilità del proprio portafoglio. Nel punto numero 2 vengono evidenziate e privilegiate l'equilibrio e la qualità delle aziende presenti all'interno dei portafogli azionari. Quindi alto cash flow e poco debito. Nel punto numero 3 invece consigliano di posizionarsi in vista di un cambiamento strutturale. Ad oggi l'andamento dell'economia e dei mercati vengono determinati da dei singoli fattori. Il primo è sicuramente la campagna contro l'inflazione. La campagna della Federal Reserve contro l'inflazione è stata il principale motore dei mercati finanziari globali dall'inizio di quest'anno. L'inflazione complessiva negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 40 anni. Anche se la Fed ha appena iniziato il ciclo di rialzi si vedono già i risultati desiderati in termini di rallentamento dell'attività economica. Il mercato degli immobili residenziali già ha iniziato ad evidenziare una decelerazione. Negli ultimi sei mesi i tassi ipotecari hanno raggiunto il livello più elevato dal 2009. L'accessibilità economica delle abitazioni è diminuita e le richieste di mutuo insieme ad essa. Il secondo fattore che muove l'economia ovviamente è la guerra in Europa e lo shock all'offerta dei mercati delle materie prime che questo ha portato. Gli indici globali del petrolio greggio sono ancora vicini ai massimi dell'ultimo decennio e durante la primavera i prezzi al dettaglio della benzina negli Stati Uniti sono saliti a livelli record. Gli investitori sono sempre più preoccupati che la volatilità delle materie prime energetiche e agricole possa causare turbolenze ed erodere la domanda, costringendo i consumatori a rinunciare ad altre spese per acquistare i beni di prima necessità. È difficile comunque quantificare l'impatto, ma il rischio che l'Europa si trovi di fronte a uno shock energetico analogo a quello degli anni 70 è abbastanza elevato. Come terzo e ultimo fattore che muove i mercati è la lotta della Cina contro il virus. Mentre in molti paesi il covid-19 è diventato gestibile, la Cina si trova alle prese con la prima grande ondata del virus da quando è cominciata la pandemia. I lockdown stanno aggravando la debolezza dell'economia cinese e pongono un rischio per le catene di fornitura globali, ancora soggette a diverse tensioni, come stiamo registrando nei report trimestrali delle aziende proprio in questi ultimi giorni. Ritornando a come preparare il proprio portafoglio a questo nuovo ciclo, ritocchiamo quelli che sono i punti dettati da JP Morgan. Riteniamo che l'obbligazionario sia lo strumento più efficiente per trarre potenziale beneficio in un momento di rallentamento della crescita. Negli ultimi due anni le obbligazioni non hanno offerto né un rendimento incrementale né un'efficace protezione del portafoglio a causa dei tassi di interesse estremamente bassi. Oggi tuttavia gli investitori ricevono finalmente un rendimento adeguato e una buona protezione in caso di recessione. In effetti un'analisi di rischio e rendimento suggerisce che, agli attuali livelli, i vantaggi di un'esposizione all'obbligazionario superano i potenziali svantaggi. Per quanto riguarda invece il mercato azionario, le valutazioni inferiori alla media decennale forniscono un punto di ingresso interessante. Tuttavia, dati i rischi di ribasso, cerchiamo di privilegiare quello che è l'equilibrio e la qualità all'interno del proprio portafoglio. Per questo motivo la sanità e la tecnologia possono essere due settori azionari da preferire. La crescita regolare dei dividendi può essere un altro indicatore di qualità, le società infatti con dividendi in crescita tendono inoltre ad essere meno costose e meno sensibili alle variazioni della crescita economica. L'avviso che ci viene posto è che il prossimo ciclo probabilmente sarà caratterizzato da catene di fornitura globali ridisegnate completamente. Per oltre 30 anni queste ultime sono state interessate da una crescita di integrazione a livello globale. Nel prossimo ciclo invece i produttori potrebbero decidere di riportare un numero crescente di fabbrica in patria o comunque nelle vicinanze e di renderle più autonome. Per gli investitori questo si traduce in maggiori opportunità nella robotica e nei relativi hardware e software. Ad oggi i rischi sono ben chiari agli investitori e questo potrebbe significare che siano scontati almeno in grande parte nelle quotazioni attuali. Di conseguenza la possibilità che uno di questi rischi colga il mercato di sorpresa e provochi ulteriori ribassi è alquanto ridotta. In effetti ora l'asticella sembra essere scesa al punto tale da creare dei presupposti che ogni notizia negativa si trasformi in una sorpresa positiva. Se l'inflazione torna in linea con il trend e le tensioni sul mercato del lavoro diminuiscono la Fed potrebbe non aumentare i tassi nella misura o nella velocità attualmente prevista dagli investitori. Questo comporterebbe un entusiasmo incredibile all'interno dei mercati. Grazie.